Benvenuti a questa edizione del TG.com, buongiorno. Nasce a Ripatransone una nuova società sportiva iscritta al campionato 2008-2009 di calcio A5. Il Ripatransone United, nome voluto da tutti i componenti della squadra, peraltro tutti i panidoc, ha come obiettivo divertirsi, divertire e portare la squadra fra i primi posti della classifica. Il presidente, il signor Mario Pulcini, ha affidato la guida del team al CT Lucio Vespasiani, che ha al suo attivo il terzo posto nel campionato della passata stagione. Testimonial del Ripatransone United è la ditta squesito, sponsor presente anche sulla nuova bellissima divisa a marchio Adidas. Infine, sullo stemma, troviamo raffigurato il cavallo di fuoco, simbolo della città di Ripatransone tutta. Questa edizione del TG.com finisce qui, vediamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.